Eccoci qua, buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori e web spettatori del canale di informazione libera Becciolini Network e Rete Informazione Europea. Intanto presento l'ospite di oggi che eravamo fermi già quasi da un mesetto per problemi logistici di Alessandro, Alessandro De Angelis, buongiorno Alessandro. Buongiorno a te, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. Oggi ci occupiamo di una tematica abbastanza importante, l'ultimo libro che abbiamo pubblicato qualche mese fa, il fratello del faraone Achetantonna, e quindi svelere l'identità di Mosè, l'identità nascosta per oltre 3.000 anni. La domanda che voglio fare a tutti i nostri ascoltatori, porteremo prove storiche, documentali di quello che verrà detto, e quindi la domanda è come mai fanno congiura del silenzio verso le nostre scoperte storiche, forse perché vengono politicizzate, ma qui la storia è politica, ragazzi. Questo libro vi porta, ne stai parlando poco tempo, poco, poc'anzi in chat, fino a svelare tutte le pagagne che ci sono sulla guerra in Ucraina. Progetto Ucraina, la Gerusalemme Celeste, portata avanti da Igor Berkut, dal ministro degli affari esteri polacco, perché trovate tutte le fonti di quello che dico in questo libro, perché Israele è diventata... Alessandro, aspetta, prima di iniziare a parlare, adesso dico solo due cose, poi partiamo con un piccolo contributo di qualche secondo e poi partiamo con la trasmissione. Allora, signori, io vi ringrazio che siete sempre qua, se volete aiutare il canale Becciolini Network Rete Informazione Europea, che ripeto è un canale di informazione, noi siamo registrati con tanto di partita IVA alla Camera di Commercio, lo potete fare in due modi, il primo, anzi in tre modi, il primo aiutandoci, facendo delle donazioni, andando sul sito www.becciolininetwork.com menu sostienici, il secondo, aderire alla nostra campagna pubblicitaria, dove verrà fatta regolare fattura per spazi pubblicitari, radiofonici e visivi, e il terzo, molto importante, di condividere le nostre dirette, quindi chi è adesso su YouTube, su Facebook, su Twitter, su Twitter, su Telegram, può condividere questa diretta con i suoi amici, è molto molto importante la condivisione. Ecco, quindi chi non ci può aiutare economicamente, almeno veramente ci dia una mano in questa maniera. Ora, prima di andare avanti, voglio dare il nostro contributo, un contributo che stiamo dando per una nuova startup, appena nata da qualche mese, si chiama Che Giro, è una startup italiana, tutta italiana, che permette di iscriversi in questo social e condividere viaggi insieme. Ok? Tra qualche secondo ritorniamo. Scusate, ho sbagliato il contributo, infatti stavo mandando il contributo di Glauco Benini. Crea il tuo profilo e inizia subito a cercare nuovi amici nella tua zona. Pubblica il tuo annuncio sulla bacheca o cercane uno tra quelli già presenti. Monta in macchina e risparmia. Vienici a trovare su www.chegiro.com. Viaggia smart, scegli Che Giro. Eccoci qua Alessandro, ti lascio la parola e ricordo i nostri ascoltatori che possono intervenire alzando le mani tra una mezz'oretta prima di iniziare con voi con le domande. Prego. Ok, dicevo, questo libro vi porta fino a tempi odierni, parlando della guerra in Ucraina. Un progetto che iniziò col progetto Israele 3.0. Israele è una terra molto piccola, in gran parte desertica, abitata da quasi 9 milioni di abitanti, per cui il progetto che stanno portando avanti è quello che, con la scusa che praticamente i loro antenati israeliti venivano dalla terra dell'Ucraina, è quello di riprendersi quella terra per allargare il loro dominio. Ne parlo in questo libro, in questo libro vengono svelate anche tante magagne come poi Rothschild, Apro Gruppo, G, ed erano gli allevatori di Capre e agricoltori che seguivano i grandi costruttori, Apro Gruppo R1B, cioè i discendenti dei Corgan che arriveranno fino agli israeliti. Dicevo, come i Rothschild, i nostri servi poi siano stati messi nelle condizioni di avere un controllo totale sull'economia mondiale, prendendo in mano le banche centrali e quindi togliendo la sovranità monetaria a tutti gli stati, come hanno finanziato tutte le varie guerre, a partire poi dalle guerre di indipendenza americane, le varie rivoluzioni finanziate sempre da loro, le guerre mondiane, come finanziavano entrambi gli schieramenti e poi finanziavano la ricostruzione di tutti gli stati. Quindi andiamo a vedere chi erano innanzitutto, chi sono quelli che abbiamo chiamato fino ad oggi ebrei, e si parla di ebrei askenaziti spesso, e devo confutare subito gran parte delle cavolate, delle bufale che stanno girando in rete sull'ebrei askenaziti, in quanto Askenaz era figlio di Gomer, figlio di Giafet, figlio di Noè, e sbarcò a Reggio Calabria. Ce ne parla Tito Flavio Giuseppe, da lì abbiamo il popolo dei reggini, addirittura c'è una via, proprio che si chiama via Askenaz, e i grandi costruttori sbarcarono poi in Italia. Di Mosè, un personaggio importantissimo, ne parlò anche Sigmund Freud, che identificò Mosè addirittura con il faraone Akenaton. Noi con prove documentali abbiamo invece svelato essere il fratellastro del faraone Akenaton, Tutmosi V de Iure. Voglio ricordare che è stato fatto l'aprogruppo ad Amenofi III, padre di Akenaton e anche di Mosè, e allo stesso Tutankhamon, ne appartengono all'abrogruppo R1, B1, A2, e quindi all'elite dei grandi costruttori discendenti Kurgan. Erano tutti re di Mitanni, Mitanni per gli egiziani. Quindi, iniziamo subito a sbufalare le varie teorie complottistiche che vedono tra l'altro in questi faraoni, faraoni succhianime degli alieni, che vorrebbero succhiare l'energia delle persone, sono tutte cavolate di distrazione di massa, vogliono portare avanti, come con il progetto Deep State, il fatto che i governanti siano tutti rettiliani, questi qui sono tutti alieni, ragazzi, siamo davanti a un progetto del Deep State, vengano a confrontarsi con il sottoscritto che porta avanti queste astruse bufale, perché stanno supportando in maniera forzata il progetto del Deep State e il progetto dell'Eugenetica. Sono qui disponibile a confrontarmi con chi sta portando avanti tutte queste notizie false, ma evidentemente hanno paura di confrontarsi con il sottoscritto. Ho chiesto più volte il confronto e non vengono a confronto questi signori. Partiamo subito con una bomba. Chi sono gli ebrei? Io sono entrato più volte nei siti di cultura ebraica chiedendo, scusate, ma chi sono gli ebrei, quelli che chiamate ebrei? E loro ti dicono, sono i discendenti di Mosè. Falso. In questo libro vi dimostriamo attraverso tre fonti indipendenti del primo millennio avanti Cristo. Primo millennio avanti Cristo, ovvero il sacerdote di Gizio Manetone del III secolo avanti Cristo, e il sacerdote Oniade di Simago, appartenente poi alla casata degli Oniadi, e quindi alla stessa casata di Gesù da parte della mamma Maria, e lo storico Ceremone, ci dicono che erano gli Ixos, un popolo di razziatori che depredavano i popoli, i villaggi vicino a loro, impuri, lebrosi e sacrilegi che dopo furono cacciati, dopo un dominio di 190 anni, perché questi Ixos intorno al 1720 si addentrarono nel delta del Nilo, conquistarono l'Egitto dominandolo per circa 190 anni, dopodiché furono scacciati dal faraone a Camose Prima e Camose, e andarono in Palestina dove costruirono la città di Gerusalemme, ce lo dicono chiaramente queste tre fonti indipendenti, quindi quelli che chiamate ebrei, altri non erano che gli Ixos, appartenenti all'aprogruppo J, stesso aprogruppo dei cari Rothschild, ovvero i nostri ex Garzoni che oggi stanno mettendo sotto dittatura il popolo e i discendenti dei grandi costruttori, grandi costruttori dai Kurgan agli israeliti, agli erodiani, dagli erodiani nel 1946 fu fatto pescovo Vorsini in Francia, arriviamo alle famiglie nobiliari dell'aristocrazia nera, nascoste dietro il Vaticano da cui sono usciti i papi, i cardinali, eccetera, poi nel XIV secolo il Vaticano vendette la patente per l'usura a questi personaggi che venivano da Gerusalemme, credendo che fossero discendenti degli israeliti, ma tali non erano, tant'è che lo stesso Rothschild, abbiamo detto, apparteneva all'aprogruppo J. Iniziamo ad entrare quindi, dopo aver parlato un attimo di questi Ixos, capirete tra poco perché è importante, perché Mosè si alleò proprio con gli Ixos per tradire il popolo dei grandi costruttori degli israeliti. Quindi israeliti ed ebrei sono due etnie completamente diverse. E quindi, dicevo, Mosè tradì il suo popolo degli israeliti per allearsi invece con gli Ixos. Partiamo con la prima data importante. Tutti conoscete il termine Armageddon. Armageddon è un termine che viene dalla battaglia, dalla famosa battaglia di Megiddo, battaglia che ci fu nel 1457 tra il faraone Tutmosi III e il re di Mitani, passata tal che altri non era che Tare, il padre di Absara e di Abramo. si ugualizzò con circa 200 principi per attaccare il faraone Tutmosi III. Il faraone che cosa fece? Con il suo esercito lungo chilometri si, attraverso uno stretto cunicolo, aggirò la collina di Megiddo, prendendo poi alle spalle, pensate che in questo stretto cunicolo passava solamente il carretto del faraone a due ruote e dovete immaginare questa fila lunghissima di questo esercito con portatori di acqua aggirarono quindi le difese di Parsatatar e di questa coalizione e riuscirono a vincere questa battaglia e per la prima volta adottò il faraone Tutmosi III una tattica che poi ripresero anche i romani, cioè quella di prendere in ostaggio le famiglie più di sangue reale di questi principi per evitare che i genitori poi rientrassero ancora una volta in guerra e li educarono alla cultura egizia. Tra questi c'erano proprio Sara e Abramo figli di Tare alias Parsatatar troverete tutto lo studio nel libro di come questi personaggi erano re di Mitani quindi tutta la comparazione e arriviamo al primo fatto sappiamo che Sara sposò il faraone quando il faraone sposò Sara Sara in ebraico vuol dire principessa sapeva che era la sorella del patriarca biblico Abramo ma non sapeva che Abramo e Sara erano anche marito e moglie era usanza tra questi re di Mitani ma anche tra gli egizi fare matrimoni tra fratelli e sorelle al fine di accumulare sempre più il patrimonio ingrandito e non disperderlo. Ora il faraone Tutmosi III ebbe altri figli tra cui il suo successore il faraone Amenhotep II quindi non era assolutamente serile va da sé che quando si unì con Sara e la sposò ebbe anche un figlio da lei ed è da questa unione che nacque Isacco non dall'unione di Sara e Abramo come ci dicono ci dice la Bibbia come ci hanno voluto far credere tant'è che quando poi Tutmosi III venne a sapere che Sara non solo era sorella di Abramo ma era anche sua moglie iniziò a dubitare del fatto che Isacco potesse essere suo figlio cominciò a dubitarne dicendo ma se questa ha avuto relazioni con Abramo che era anche suo marito e quindi che strategia usò per cercare di capire se Isacco potesse essere figlio di Abramo o se invece era effettivamente suo figlio ordinò ad Abramo penso la storiella la conoscete un po' tutti quanti quando il faraone ordina ad Abramo di uccidere Isacco quell'Elohim altri non era che il faraone Tutmosi III che gli ordinò di uccidere Isacco perché fece questo? perché se Abramo avesse ucciso Isacco questa era la prova che Isacco era figlio di Tutmosi III e Sara mai lo avrebbe ucciso Abramo Isacco nel caso fosse stato suo figlio se invece lo avesse salvato ovviamente lì c'era la prova del fatto che Isacco era figlio di Abramo e non figlio del faraone Tutmosi III fece seguire da due luogotenenti Abramo e nel momento in cui Abramo stava per uccidere e sacrificare Isacco lo fermarono tant'è che le fonti talmudiche abbiamo fatto comparazione anche con le fonti talmudiche e tanti altri libri per arrivare a tutte queste scoperte ci dicono che Isacco portava il segno del collo del coltello con cui il padre non il padre con cui Abramo stava per ucciderlo riuscirono a fermarlo appena in tempo dopodiché il popolo sempre il talmudice lo dice e cominciò a deridere Abramo perché? perché Isacco non somigliava assolutamente al padre ovviamente i faraoni avevano una pelle molto più scura anche se erano discendenti di Cam questi faraoni Cam era figlio di Noè alias Ziusudra decimo re della lista reale sumerica a Kurgan ovviamente stando in questi luoghi molto caldi come difesa il corpo produce più melanina e si diventa più scuri tant'è che le fonti talmudiche ci dicono che il popolo derideva Abramo perché Isacco non gli somigliava assolutamente e quindi dovete intervenire Dio con la sua potenza per cambiargli il viso e farlo somigliare ad Abramo a questo punto noi ci ritroviamo con Isacco che era fratello dell'altro figlio di Tutmosi III a Menotep II successore di Tutmosi III da Isacco abbiamo poi suo figlio Giacobbe identificato come i re di Mitani Artatama I qui è complicato troverete nel libro tutte le prove di queste identificazioni a cui poi Dio cambiò il suo nome in Israël e Giacobbe era cugino del figlio del faraone a Menotep II ovvero Tutmosi IV se a Menotep II Isacco sono fratelli da parte paterna Giacobbe e Tutmosi IV ovvio che sono cugini ok qui adesso arriva la parte importante del nostro percorso e delle nostre scoperte perché perché noi sappiamo che in questo periodo ci fu una forte carezzia nel regno di Mitani tanto che Giacobbe mandò Giuseppe suo figlio dal faraone a chiedere se gli fosse aiutare il loro popolo dandogli del grano e la sorella di Giuseppe ovvero Mutemuglia fu data in sposa al faraone Tutmosi IV che cosa ci siamo ritrovati nelle nostre scoperte con faraone Tutmosi IV è stato fatto all'attack morto giovane con danni cerebrali provocati da probabile avvelenamento che dava proprio questi danni cerebrali non solo nel bellissimo libro di Giuseppe Asenat si parla del fatto che Beniamino fratello di Giuseppe Tutmosi V quindi Giuseppe era il figlio del cugino Tutmosi IV dicevo il figlio di Tutmosi IV fu ucciso dal fratello di Giuseppe Beniamino altra cosa importante lì sono centrato nei siti di egittologia abbiamo fatto tutte le ricerche quando il faraone moriva diventava regina che le grandi spose reali non esistono altre spose delle concubine che siano diventate regine passando sopra le grandi spose reali questo proprio per legge degli egiziani bene Tutmosi IV aveva due grandi spose reali Nefertari non confondere con Nefertiti e Yaret che era la sorella quindi sarebbe dovuta diventare regina la morte intorno ai 30 35 anni di Tutmosi IV Yaret o Nefertari e invece che cosa successe successe che diventò regina Mutemuglia e ho chiesto com'è possibile che sia diventata regina Mutemuglia c'era una sola possibilità le due grandi spose reali di Tutmosi IV ovvero Nefertari e Yaret furono uccise insieme a Tutmosi IV e al primo genito del faraone ucciso da Beniamino fratello di Giuseppe fu organizzato ordito un bel complotto ai danni del cugino di Giacobbe pensate che bella famiglia tant'è che a quel punto questo Giuseppe noi l'abbiamo identificato con Giulia vicere d'Egitto Giuseppe diventò vicere di Egitto che cosa ci racconta la storia che Giuseppe fu venduto dai suoi fratelli agli Ismailiti e questi qui poi lo vendettero a Potifar che era il capo delle guardie del faraone e la moglie di Potifar accusò Giuseppe davanti a suo marito di averla violentata tant'è che Potifar lo fece arrestare dal faraone dopodiché la storia della Bibbia ci dice che Giuseppe riuscì a interpretare un sogno del faraone dicendogli che ci sarebbero stati sette anni di abbondanza a cui sarebbero seguiti sette anni poi di carestia e il faraone lo liberò a quel punto che cosa successe che Potifar sua figlia Asenet esposa a Giuseppe cosa impossibile perché dal punto di vista della logica perché Giuseppe era stato incarcerato proprio su accusa di Potifar perché aveva violentato sua moglie quindi immaginare che Giuseppe sia stato incarcerato dopo sia stato dato sia stato fatto sposare alla figlia di Potifar dopo che Potifar lo aveva fatto incarcerare perché gli aveva violentato la moglie è una grandissima cavolata ma tant'è comunque che Giuseppe fu fatto vicere e a quel punto poi prese tutta la il grano dell'Egitto e lo mandò al suo popolo affamando gli egiziani se noi andiamo a vedere questo Giuseppe abbiamo verificato ma ce ne parla anche Osman questo Giuseppe viene chiamato nella Bibbia padre del faraone e Giuseppe quindi perché fu incarcerato perché fu trovato ad avere relazioni di adulterio con Mutemuglia sua sorella che era probabilmente lo stesso che era successo per Sara e Abramo anche sua moglie questo fu il vero motivo per cui Giuseppe fu incarcerato e il faraone successivo a Tutmosi IV fu Amenote e Peterso figlio non di Tutmosi IV e Mutemuglia ma di Mutemuglia e di Giuseppe tratt'è che nel tempio della nascita dell'Uxor nella raffigurazione della nascita di Amenofi III viene detto non figlio di Tutmosi IV ma figlio del dio Tot quando dovevano nascondere la vera paternità di questi personaggi perché scomoda venivano sempre fatti nascere dagli dei allora dicevo Giuseppe è chiamato pare del faraone esattamente come Iuia che abbiamo identificato con quel Giuseppe entrambi viceree e mai nessun altro personaggio è stato chiamato padre del faraone tra l'altro quindi solo questo Giuseppe il faraone Amenote Peterso nasce dal dio Tot e quindi furono oltretutto sia Iuia che Giuseppe portavano l'anello con il sigillo reale i mitani usavano i cavalli ed i carri sia Iuia che Giuseppe usavano questi carri ora da questa relazione di Giuseppe e Mutemuglia abbiamo detto che nacque Amenote Peterso perché è importante perché perché era il padre di Achenaton ma non solo era anche il padre di Mosè adesso iniziamo ad arrivare sul su tutta la storia che ci riguarda per quanto riguarda Mosè il vicere d'Egitto sotto Amenote e Peterso era Mary Mose Mose vuol dire figlio di Mary e altri non era che Merari quindi vicere d'Egitto sotto Amenote e Peterso era Merari figlio di Giacobbe un altro dei figli di Giacobbe ok il vicere d'Egitto sotto Achenaton invece era Tutmose Tutmose vuol dire nato da Tot anche in questo caso viene data viene nascosta la paternità del caro Mosè e come siamo arrivati ad identificare Mosè con il fratello di Achenaton ho preso in mano tutta la storia dallo storiografo Tito Flavio Giuseppe che cosa ci racconta di Tito Flavio Giuseppe non ci dice il nome del faraone sotto cui stava Mosè ma ci dice che ci fu una rivolta in Nubia e tra l'altro in Nubia quando con questi faraoni entrerà il dio Amon Ra in Egitto con la diciottesima dinastia e Amenotep Terzo fece costruire il primo tempio dedicato ad Aton dio su cui poi Achenaton fece il mononteismo e qui verrà ritrovata per la prima volta l'iscrizione di Yahweh e Yah nella terra degli Shasu in questo tempio dicevo Tito Flavio Giuseppe ci racconta che il faraone fece generale Mosè quindi era un personaggio molto potente all'interno della casta faraonica egiziana e lo mandò a sedare la rivolta in Nubia e Tutmosi qui Toteiure era il proprio il vice re d'Egitto che controllava la Nubia questa storia di Giuseppe Flavio ci racconta come invece di seguire la letta principale la Nubia si trovava a sud dell'Egitto attraversò il deserto portò dei grossi uccelli gli ibis perché c'erano serpenti che addirittura con grossi salti potevano serpenti velenosi attaccare l'esercito di Mosè e quando vedevano questi serpenti aprivano le gabbie e gli ibis subito uccidevano questi serpenti si nutrivano di questi serpenti tant'è che comunque Mosè riuscì a sconfiggere l'esercito dei Nubiani e circondò l'isola di Merhoe l'isola dove si trovava Tarbi la principessa a questo punto Mosè che cosa fece la principessa Tarbi disse a propose a Mosè di sposarla Mosè accettò sposò la principessa Tarbi e ci dice farà di Giuseppe si dichiarò padrone della città questo che cosa vuol dire vuol dire che fece un proprio vero colpo di stato verso il faraone ovvero il faraone Akenaton il sacerdote egizio Manetone che cosa ci dice ci dice che Mosè visse sotto il faraone Amenofi Amenofi l'ellenizzazione di Amenotep quindi in greco ora noi abbiamo avuto solamente quattro Amenofi Amenofi primo Amenofi secondo Amenofi terzo e Amenofi quarto o Akenaton ok l'altra informazione che ci dà quale è molto importante che durante il regno di questo Amenofi sotto cui c'era Mosè fu sedata una rivolta in Nubia e una rivolta in Asia bene l'unica volta dove fu sedata la rivolta in Nubia e in Asia fu proprio sotto il faraone Akenaton a quel punto abbiamo avuto la certezza attraverso prove concrete che Mosè disse era il vicere dell'Egitto sotto il faraone Akenaton e fu lui poi tra l'altro a sedare questa rivolta in Nubia ma fece abbiamo detto un colpo di stato verso Akenaton abbiamo detto Merimose era il vicere sotto a Menotepe III e Merimose vuol dire figlio di Meri di Merari figlio di Giacobbe Merimose aveva come figlia Tarbi e Merari Merimose Tarbi e Mosè sposò Tarbi e si dichiarò padrone della Nubia quando Mosè venne quando il faraone Akenaton venne a sapere tutto questo i suoi sacerdoti i saggi che aveva i consiglieri gli consiglierono di ucciderlo Mosè venne a sapere tutto questo e quindi dovette fuggire dove fuggì? fuggì nella terra dei Madianiti a Madian e lì sposò una sorella di Giacobbe Giacobbe aveva un fratello Saul il figlio di Saul era dietro o Reuel che aveva una figlia che si chiamava Zippora e lì Mosè sposò Zippora quindi dovette fuggire per scampare alle ire del fratellastro Akhenaton è tutto chiaro fino a qui Stefano perché Mosè lo abbiamo identificato con il fratello di Akhenaton perché Mosè se dò una rivolta in Nubia sotto il faraone Maletone ci dice che quel faraone era Amenofi e sotto quando ci sotto quella Amenofi ci furono due rivolte una in Nubia ed una in Asia e questo successe solamente verso il faraone Amenofi IV o Akhenaton ecco come siamo riusciti a identificare Mosè con il faraone Tutmosi V di Iure quindi mi chiedo e domando come mai una scoperta del genere di livello mondiale viene fatta oggetto di congiura del silenzio quando dovrebbe fare il giro del mondo in un attimo da parte di tutti i media perché abbiamo tirato fuori una vera e propria cospirazione che ci fu da parte degli israeliti verso i loro parenti sterminando tutta la famiglia del faraone Tutmosi IV cosa che ovviamente dà non poco fastidio a livello politico tutta questa storia ma andiamo ancora avanti perché Mosè abbiamo detto era figlio di Amenhotep III conosciamo tutti quanti almeno spero parte degli ascoltatori la storiella di Mosè e fu abbandonato riprendendo la storia di Sargon su un cesto dove lo trovò la figlia del faraone e il faraone lo adottò e fu allevato da Sifra Sifra al filo nera Ponti da Muziche che Yokebed chi era Yokebed? Yokebed era un'altra figlia di Giuseppe allora noi qui vediamo che cosa è successo anzi di Levi scusate Giacobbe aveva come figli oltre Giuseppe Merari abbiamo detto il figlio Merimosa ebbe una figlia Taddi che sposò poi Mosè Mosè si dichiarò padrone della città quando si è tolta la rivolta in Nubia quindi fece un colpo di stato verso Achenaton e quando venne a sapere che Achenaton lo voleva uccidere dovette fuggire l'altro figlio di Giacobbe era Levi da cui abbiamo i Leviti ed erano i soli che potevano poi diventare sommi sacerdoti fino ai tempi di Gesù Levi aveva due figli uno era Keat e un altro Yokebed due figli tra i più importanti Keat ebbe un figlio Amram Yokebed sposò Amram Yokebed era la zia di questo Amram bene che cosa successe che Amenhotep III ovviamente era cugino di Yokebed perché Amenhotep III era figlio di Giuseppe e Yokebed era la figlia di Levi e Levi era fratello di Giuseppe da questa relazione di adulterio nacque proprio Mosè tant'è che Amram che cosa fece ripudio Yokebed sua zia e intervenne tra Amram e Yokebed abbiamo Aronne e Miriam tra l'altro intervenne Miriam per far sì che poi si rimettesse Yokebed con Amram ma perché si rimise con suo nipote Amram Yokebed perché il caro Levi il padre di Yokebed prese per le orecchie suo nipote Amenhotep III e gli disse è bello hai avuto una relazione di adulterio con tua cugina è nato Mosè adesso Mosè te lo riprendi perché è tuo figlio ma era nato da un'unione non non legale da un'unione di adulterio con la cugina Yokebed da cui appunto nacque questo Mosè e quindi Mosè Miriam portò Mosè dal faraone e fu allevato da Sifra e altri non era a Ponti Talmud che è questa Yokebed questa è la favoletta che ci hanno raccontato questa invece è la storia vera che è successa non è finita perché a questo punto che cosa succede? muore Akhenaton e a questo punto il caro Mosè tenta il colpo d'estato che cosa fa? si allea con gli Ixos tant'è che Miriam si prende la lebra e lo stesso Mosè si prende la lebra te lo vedete i passi con le prove dove si prendono perché ce lo dico lo manetone ceremone di Simaco erano lebrosi impuri sagrivi aggirazzi adori di popoli eccetera eccetera quindi si alleò con gli Ixos per entrare in guerra contro chi? il faraone Tutankamon figlio di Akhenaton Mosè era lo zio di Tutankamon Tutankamon tra l'altro ebbe un incidente ad un piede ad un piede e morì poi molto giovane dopodiché Mosè perse la guerra e sapete che cosa fece? Uccise tutti i Madianiti per ordine di Dio gli disse di uccidere i Madianiti ma non esiste nessun Dio che ordinò l'osterminazione dei Madianiti e i Madianiti erano tra l'altro parenti di Mosè perché abbiamo detto la figlia di Ietro che era il figlio di Saul fratello di Giacobbe ovvero Zippor la figlia di questo Ietro sposò proprio Mosè e lui sterminò addirittura il suo popolo quello dei Madianiti i suoi parenti per l'allearsi con gli Ixos dopodiché fu sconfitto dal faraone Tutankamon e ragazzi la storia è cambiata radicalmente quindi quando gli ebrei ci dicono noi siamo i discendenti degli israeliti non sono i discendenti degli israeliti neanche per idea sono gli Ixos un popolo di razziatori lebrosi impuri ce lo dicono Maretone Ceremone e Lisimaco e guarda caso questi Rothschild al gruppo J quindi discendenti da questi personaggi oggi razziano prendendo in mano le banche centrali hanno tolto in mano dagli stati la sovranità monetaria e attraverso questa moneta debito che creano da nulla hanno sottomesso tutti i popoli e ho attacchiato tutta la passoneria dicendo attenzione perché voi state supportando il Deep State portando avanti la bufala di questi faraoni alieni di questi personaggi Kurgan Elohim Manunna che sono tutti alieni per rascondere sia l'identità di questa di questa discendenza Kurgan Mitannico Israelitico Erodiana ed erano tutti uomini come noi che usavano armi come frecce Kurgan usavano mazze di pietra ci spiegassero come cavolo fanno questi alieni a combattere con le mazze di pietra lo stesso Yahweh fu ucciso Avila da suo figlio da suo fratello Nimrod ed è figato come balla con una mazzata sulla testa li abbiamo svelati tutti eppure sono anni che ci vengono a dire Yahweh il dio alieno della Bibbia e poi rifiutano di confrontarsi con il sottoscritto su queste tematiche che siano alieni che siano dei che siano personaggi mitologici inventati purché non si scopra la verità scomoda al potere che stiamo parlando di un'elite di guerrieri che hanno diviso e frammentato la terra in vari stati prendendo il dominio tra di loro in varie zone di competenza e poi oggi casualmente grazie al Vaticano ci ritroviamo con addirittura i nostri ex gazzoni agricoltori allevatori di capre che seguivano i grandi costruttori R1B che hanno preso possesso di tutti gli stati grazie al controllo delle banche centrali quindi ho attaccato la massoneria dicendo attenzione voi state tradendo il popolo dei grandi costruttori di cui noi siamo discendenti facendo considera del silenzio su queste scoperte storiche e quindi che cosa dobbiamo fare perché come mai la massoneria ci dice sempre noi siamo solamente per la verità non parliamo di religione e politica quando così non è queste scoperte storiche allora come mai non vengono a galla e portano tutti avanti la bufala di questi alieni che ci governano perché capite che se sono se abbiamo gli alieni al potere che ci governano le persone adesso alieni hanno una tecnologia superiore a noi sono loro che ci hanno creato tendo e sono guardate centinaia di migliaia di persone che stanno cadendo nella rete di disinformazione di questi personaggi che stanno portando avanti il progetto del nuovo ordine mondiale e quindi del deep state io li sto accusando e in maniera forte vengano a confronto se hanno le palle di farlo così andiamo a vedere dove sta la verità e quindi ho cercato di intervenire cercando di spaccare perché il popolicchio poi più di tanto non va non ha gli strumenti perché già dagli scienzoor è lì che si formò la massoneria no? dei figando e divinizzando quei personaggi addirittura da Ananamin che fu deificato come Min o come Horus cercarono di far credere che questi personaggi avessero dei poteri sovrannaturali divinizzandoli basta leggere il libro di Daniele no? usavano delle botole nel seminterato il re portava da mangiare nella camera la statua del dio loro entravano mangiavano e il faraone pensava che fosse stato dio a mangiare quel cibo conoscevano molti trucchi come costruttori per portare avanti questa bufala ci vengono a parlare che i faraoni sono tutti alieni ma perché ci abbiamo sono state fatte di aprogruppi del DNA di Amenofi III di Akenan di Tutankhamon R1B1A2 l'intera Europa appartiene all'aprogruppo R1B ragazzi perché i Corgan sbaccarono anche da noi quindi noi siamo discendenti dei grandi costruttori e la massoneria sta tradendo il popolo dei grandi costruttori a favore di nostri ex garzoni Ixos che hanno preso in mano la sovranità monetaria di tutti gli stati e che ci sta massacrando basti pensare che negli ultimi 30 anni caro Stefano il popolo italiano la Grecia già l'hanno fatta fuori ha visto ridursi lo stipendio medio del 3% mentre gli altri popoli hanno avuto un aumento degli stipendi del 40% quindi stanno creando una rarefazione monetaria che manderà poi in default l'intera Italia perché quando in un regime di inflazione poi tra l'altro alzano i tassi di interesse ovviamente quante persone non saranno più in grado perché si sono viste ridurre il potere d'acquisto non saranno più in grado di pagare quel mutuo che si vedono anche aumentare e vedranno per ignorarsi la loro casa quanti non saranno in grado poi di affittare più le loro case perché vogliono portarle con le nuove norme dell'Unione Europea alla classe E poi alla classe D e dovranno fare ristrutturazioni per mettere la norma altrimenti arriveranno multe eccetera eccetera è un progetto del nuovo ordine mondiale che vedrà portare avanti il capitalismo inclusivo dove tutti gli italiani perderanno tutta la piccola media borghesia sparirà aceto medio è diventato già povero e dove alla fine verrà dato un reddito di sopravvivenza alle persone per non farle liberare per non farle ribellare ma vedete già che con la precarizzazione del lavoro hanno sfalculato l'articolo 18 e con tutto quello che hanno ceduto tutte le nostre aziende se vorrebbero con l'articolo 43 della Costituzione no? tutte le nostre aziende compreso Leni Liri di meccanica autostrade poste hanno ceduto tutto abbiamo lo strumento per riprenderci tutto quanto vedete l'articolo 43 della Costituzione invece siamo costretti a pagare gas energia bollette più alte le aziende le hanno riaumentate ti tolgono 50 poi ti ridanno 20 poi ti ridanno 50 poi ti ridanno 20 e così ragazzi stanno mettendo stanno mandando in default l'intero popolo italiano ecco perché queste scoperte storiche danno fastidio perché i miei libri non parlano di religione ma di politica di una storia legata a politica e potere dove la religione è stato uno strumento di aiuto per coercizzare le menti di tutti gli italiani oggi visto che le religioni funzionano di meno quindi stanno portando avanti il processo di alienizzazione di questi personaggi per far passare le persone da un inganno ad un altro per far sì che questo ma sempre una nuova religione si passa da un dio creatore agli alieni creatori per coercizzare le menti delle persone a fine di portare avanti il loro progetto e poi ovviamente si porta avanti anche la eugenetica perché se sono stati gli alieni attraverso il DNA a favorire la nascita dell'homo sapiens ovviamente uno accetta più volentieri il fatto di tutto questo progetto che stanno portando Alessandro volevo farti una domanda negli ultimi duemila anni quando è che il popolo dei costruttori ha perso potere si può identificare ad esempio una data intorno al medioevo al 1200 quando c'è la nascita proprio dell'aristocrazia mercantile dell'aristocrazia proprio dei mercanti dei commercianti cioè prima intorno al XIV secolo il Vaticano c'è un libro quello dove spiega tutto quello che è successo eccolo qui spiega tutto quello che è successo quando il Vaticano chiuse i banchi di pegno cedendo poi vendendo la patente per l'usura a questi personaggi che venivano da Gerusalemme e loro si organizzarono proprio attraverso l'usura poi abbiamo i banchieri genovesi veneziani che cominciarono a lasciare le note di banco al posto del denaro prendevano interessi quando videro che le persone non ritiravano soldi perché era pericoloso continuarono su questa strada e loro piano piano hanno preso completamente il potere la prima banca ad essere stata sottratta al popolo fu proprio la banca d'Inghilterra raccontiamo proprio tutta la storia di quello che è successo fine del 1600 il 14esimo secolo in poi ovviamente però in quel periodo non c'erano gli abrogruppi Stefano per cui loro quando venivano questi personaggi da Gerusalemme dalla Palestina non sapevano che appartenessero che non fossero discendenti degli israeliti dei grandi costruttori perché in realtà abbiamo visto che erano Ixos una razza di predoni come ci viene detto i veri ebrei quindi chi sono? sono i discendenti di Eber Eber sposò Azura la figlia di Nimrod ebbero un figlio Peleg da cui nacquero la cultura protoellenica il figlio di Peleg Cain sbarcò qui nel Lazio vi ho portato tutte le documentazioni e le prove storiche nel libro Lucifero il resumero tradito dal Signore dove attraverso proprio l'etimologia le parole le asce kurgan che sono state ritrovate che sono al Museo Figorini a Roma le piramidi che hanno le mura ciclopiche che hanno costruito qui e sbarcano proprio qui nella nostra zona a Tivoli Alessandro ascolta prima di passare la parola a Franca che è la prima che devo fare una domanda quindi tu credi che il vero complotto adesso che si sta insomma che si sta che si sta producendo è dovuto anche con l'ausilio di queste personaggi di cui non voglio fare il nome ma giusto ma non per non pubblicizzarli ma comunque li vediamo tutti i giorni sul canale youtube che profetizzano un'umanità creata da alieni ecco io ricordo che già quando avevo 15 anni che lessi per 16 anni la prima volta Peter Colosimo se non sbaglio polvere di stelle già Peter Colosimo ed altri come Sala dell'astrologo o tanti altri profetizzavano un ritorno degli dèi cioè che quello che hanno quelli che avevano costruito la popolazione umana fossero proprio questi dèi quindi anche questa apertura da parte dei mass media verso questi nuovi personaggi che profetizzano l'arrivo degli dèi alieni in qualche modo è parte del sistema a quanto su certo ma guarda con la nuova tecnologia iniziano a fare ologrammi in cielo per far credere che ragazzi allora se noi andiamo nel predinastico nella terza fase di Nakata 3 è lì che compaiono le prime forme di scrittura con i geroglifici perché perché Cam figlio di Noè dopo la caduta della cometa Barcl andò proprio in Egitto Cam Ham Amon il dio conoscibile Amon che poi fu sincretizzato con il dio sole Ra nella diciottessima dinastia dove comparve poi Amon Ra comparvero le prime tecniche costruttive perché avevano capanne fatte con canne di bambù e inizieranno ad esserci le prime abitazioni con mattoni di fango e terracotta le prime forme di scrittura prima della fase di Nakata 3 e stiamo parlando del 3100 avanti Cristo non c'era niente in Egitto c'erano solo pastori quando arrivò Cam con i suoi figli questi erano organizzati militarmente perché hanno usato l'organizzazione militare la religione come strumento avevano queste mazze arrivavano e prendevano possesso di tutte le terre che conquistavano tant'è che poi gli davano il loro nome Misra Egitto Misra era figlio di Cam e fu veificato come Osiride lì abbiamo ed era il famoso faraone Narmer che unificò alto e basso Egitto rappresentato con la mazza Kurgan in mano nel 3123 cadde la cometa Barc e questo diede luogo a delle migrazioni e quindi distrusse la civiltà di Sumer della terra di Sumer i famosi Anunna governanti che formarono le prime cittastato proprio nella terra di Sumer e questi combattivano con mazze di pietra ragazzi i testi delle lamentazioni che potete leggere in questo libro vi dicono tutto quello che successe quando cadde questa questa cometa ma soprattutto come questi Anunna i famosi Anunnaki che compare in accadigo col termine chi per la prima volta che non vuol dire quelli che da cielo scesero sulla terra ma progenio semenza di questi principi di questi governatori dicevo questi urgan combattevano con le mazze di pietra e allora che cavolo vogliamo dire che questi questi qui erano alieni che combattevano con mazze di pietra noi abbiamo avuto tre grandi catastrofi no? ma la prima nel 12.900 anni fa che ad un asteroide in Groelandia e sono state ritrovate tracce di losdanete che sono andate per la struttura religione esagonale me ne occupai anni fa tantissimi anni fa quando ho fatto questa scoperta perché sono state ritrovate fino ai Pirenei ma 12.900 anni fa non c'era scrittura non c'era niente le prime forme di scrittura compaiono proprio con questi sumeri abbiamo le tavolette prelamitiche da quei simboli arriveranno poi al proto-sumerico e poi ai proto-geroglifici egizi parliamo del 3.100 l'elaborazione delle prime forme di scrittura ecco allora che si capisce come certe notizie siano arrivate poi fino a noi quelle del diluvio universale ma la tradizione orale viene distorta già nell'arco di pochi anni se succede una cosa a Roma Est a Roma Nord già te la ritrovi con molti cambiamenti per dirti mentre con le forme di scrittura viene messo nero su bianco tutto quello che è successo l'altra grande catastrofe ci fu nel 6.000 avanti Cristo quando si staccò un enorme ghiacciaio dal Canada la Laurentide e innalzò poi i bacini delle acque degli oceani tant'è che travasò poi l'acqua nel lago nero diventò il mar nero attraverso questo letto dei Tardanelli e lì sono stati ritrovati villaggi sotto acqua commersi ma con una cultura primitiva che appartenente al Neolitico le prime forme che troviamo abbiamo Gobeck di Pepe ma lì questi erano solamente dei laboratori astronomici perché iniziarono a scoprire l'agricoltura e quindi iniziare a capire quando c'era il sostizio invernale e quindi le giornate rinziavano ad allungarsi era importante perché poi attraverso la semina sapevano che le giornate si allungavano e quindi avrebbero avuto poi il raccolto che gli avrebbe permesso nei momenti di carezzia di poter sopravvivere quindi l'unica soluzione a tutto questo è stato tutta la storia della leggenda del diluvio universale è stato quando cadde la cometa Bar che abbiamo dato l'anno giorno e mese preciso il 29 giugno 3123 avanti Cristo e guarda caso è nel 3100 che poi compaiono i primi faraoni in Egitto prima non c'era niente altra cosa se loro ci vengono a parlare di centinaia di migliaia di anni fa come ha fatto Sicil c'è stata la modificazione del genoma da parte del DNA da parte di questi aliemi è una grandissima cazzata perché 74 mila anni fa ci fu l'esplosione del superbeccano a Toba in Indonesia da dove si salvarono solamente i 1200 individui nella piccola zona dell'Africa orientale e che ripopolarono poi i continenti attraverso migrazioni dal 60 mila e 50 mila anni fa arrivando poi fino ad Europa lì abbiamo tutto lo studio del progetto Genoma di Sipe Wells quindi stanno solamente facendo disinformazione approfittando dell'ignoranza delle persone allora ascolta Alessandro prima allora intanto si prepara Franca e Andrea 24 allora si può dire che noi adesso stiamo assistendo in questa epoca storica all'antico al ritorno delle antiche caste e mi spiego per caste guerrieri mercanti e bramani che vuol dire i bramani i sacerdoti cioè la casta delle religioni cioè mentre per qualche secolo noi abbiamo passato una certa società abbastanza illuminista dove diciamo c'era anche un equilibrio tra queste tre caste la casta dei guerrieri dei mercanti e dei bramani cioè dei sacerdoti adesso c'è un ritorno preponderante con il neoliberismo e quindi anche quello che sta succedendo adesso nelle varie parti del mondo il ritorno insomma della cassa dei guerrieri militari soldati che continuano a sempre più a fomentare guerre eccetera ma guarda chi conosce che si è occupato di storia e te ne sei occupato anche tu Stefano sa bene che le guerre ci sono sempre state e sono sempre state guerre tra i vari re imperatori governanti che si sono divisi il terreno che hanno diviso poi in imperi stati la terra e questi appartenenti all'elite kurgan erodiana praticamente hanno sempre fatto guerre di potere tra di loro ma facendo ovviamente versare il sangue dei popoli tra loro era addirittura vietato uccidersi abbiamo tantissimi esempi anche con l'impero romano se tu uccidevi un re rischiava addirittura la la morte quindi secondo me no è un continuum da 5.000 anni ad oggi niente è cambiato tutte le rivoluzioni che ci sono state sono state sempre rivoluzioni dove la massoneria poi è intervenuta in maniera abile cercando di far credere che si stesse distruggendo un potere ma dopodiché quel potere nasceva ancora più forte dalle sue sceneri perché ogni volta che ci sono state rivoluzioni sono stati impoveriti i poveri e i ricchi sono diventati sempre più ricchi ed è esattamente quello che sta succedendo oggi c'è un spostamento di denaro da un popolo che si era messo in una posizione di benestare quindi stanno togliendo tutto l'aceto medio alto per accentrare le ricchezze sempre più verso questa elite d'altronde quando loro il denaro lo creano dal nulla riescono a corrompere tutto e tutti ma questo lo hanno fatto anche con me perché quando io feci queste scoperte loro mi chiamarono da Montegarlo lo sanno bene questi figli di puttana e ci offrirono contratti altissimi dopodiché mi hanno detto caro Alessandro ti riusciva di parlare del signoraggio bancario ne parlavo in televisione sono stato uno dei primi a parlare in televisione della truffa della moneta debito e ti portiamo dappertutto altrimenti ti facciamo scomparire è quello che hanno fatto perché quando facevo televisione arriviamo a 100-200 mila visualizzazioni oggi qualche migliaio di visualizzazioni allora Alessandro diamo la parola adesso a Franca e poi Andrea si prepara Andrea 24 Franca buongiorno da dove chiami? Franca non ti vedo più allora Franca prova a rientrare Andrea 24 e Franca devi premere sul pulsante blu Andrea 24 eccomi qua ecco buongiorno a tutti buongiorno Alessandro allora io insomma mi ha invitato questa congiura del silenzio nei suoi confronti fa molto pensare no? a me mi ha fatto anche pensare anche a me e mi viene in mente uno scrittore che praticamente scrisse la storia della Vandea francese del genocidio vandeano la stessa cosa uguale sta accadendo nei confronti di Alessandro non è che per caso questa congiura del silenzio che viene fatta è perché ovviamente Alessandro toccando insomma la storia di Gesù mette in discussione anche il Corano perché nel Corano Gesù viene chiamato Isa e comunque figlio di una vergine di nome Maria e allora non è che per caso questi personaggi che stanno zitti ora hanno paura e hanno paura dell'Islam e stanno zitti per quello domanda? risposta no perché loro quando ci offrirono questi contratti vi do anche le cifre dei contratti che ci proposero 150 mila dollari non euro ha sottoscritto 100 mila mio figlio libri tradotti in tutte le lingue con ovviamente poi le percentuali sulle vendite dei libri film documentari eccetera ci dissero che avevano preso noi per il nuovo testamento e un altro personaggio di cui non faccio il nome sull'antico testamento era un gioco che gli faceva comodo a loro quello di far cadere la religione del cristianesimo per supportare questa nuova religione new age a base di alieni ma immagina Stefano no? se passa quella religione new age allora faremo la fine dei cinesi lo sto dicendo poi parlerò anche delle scoperte di Gesù scusa Alessandro il Natale l'Immacolata San Pietro e Paolo quante sverse verrebbero abolite metterebbero a lavorare i lavoratori tutti i giorni come i cinesi 360 aspetta Alessandro perché Andrea vuole dire un'altra cosa poi volevo anch'io parlare una mia riflessione prego Andrea allora ok grazie mi sono dimenticato di dire il problema è che loro mi dissano finisci la dia di attaccare le banche centrali e ti portiamo dappertutto ed io non accettai questa loro imposizione tutto qui Andrea ok allora no perché tu sai Alessandro che loro hanno anche un altro progetto nel nuovo ordine mondiale che è Chris Lam chi è? sì cioè questo non è da sotto loro hanno in mente Chris Lam da un bel po' di tempo perciò per quello oltre l'ufologia e l'ufologia c'è anche questa cosa qua unire il cristianesimo all'islam ecco perché ti dicono non è che per caso hanno paura di toccare quello che c'è scritto nel corano ma ma poi tra l'altro e ti devo dire alti livelli va che avere i progetti che ti hanno in mente però se vogliono portare avanti questa diciamo la chiesa a questo punto ovviamente non può perdere il suo potere c'è una lotta interna tra questi personaggi questi vogliono portare avanti il neo-age con alieni sostituendo gli alieni inventati alieni con inventati dei il problema è che ci troviamo sempre davanti al solito dividi e timpera quando vengono messe in gioco duemila bufale di disinformazione oggi il fomenco la grande tartaria ebrei a schiena ziti la cazzaria le persone non capiscono più niente e ovviamente l'unica cosa vera che tiene sotto dominio i popoli ovvero le religioni e la moneta debito il signoraggio bancario diventano complottismo in mezzo a a queste duemila bufale per cui poi dividi et impera è sempre quello il giochino tra l'altro Kush tra l'altro l'Islam viene da Kush che fu deificato in Egitto come sette e ritornò poi a Babilonia come come etana diventò il famoso El Elion che divise poi tra i suoi figli le varie terre da El Elion e l'Ilu Allah stiamo parlando sempre dei stessi personaggi da cui rilasceranno poi le tre religioni monoteistiche l'ebraismo nasce da Avila Avila era la terra di Yahweh era la terra di Avila e nel libro nel libro La famiglia di Yahweh abbiamo svedato l'identità di Yahweh con Avila perché questi personaggi davano alle terre che conquistavano il il loro nome e sappiamo che Yahweh attaccò la torre di Babbele che era stata costruita da Nimrod Nimrod venne deificato con come Bal Adad e ritornerà tra l'altro in Egitto come Aton sempre il dio sole allora Alessandro io addirittura come Morigna il dio degli ebrei questo è il dio degli ebrei quindi ognuno di queste tre religioni nascono dalla deificazione di personaggi che altri non erano che questi Kurgan Alessandro io volevo fare una riflessione allora io logicamente non mi schiero né dalla parte tua né dalla parte di quelli che credono che l'umanità sia frutto di un'inseminazione aliena geneticamente io logicamente da conduttore da informatore ascolto valuto però voglio fare una riflessione che un po' spezia una lancia a tuo favore allora io mi occupo di questi casi di questa storia clipper archeologia di ufologia da quando avevo 15 anni i miei ascoltatori lo sanno il primo libro che lessi era il libro di Charles Berlitz Il triangolo maledetto e avevo 15 anni quindi era la fine degli anni 70 inizio anni 80 inizio anni 80 e mi ero fatto un'idea logicamente di alcune cose non se ne poteva parlare non si poteva parlare di ovni oggetti volanti non identificati e tantomeno parlare di queste teorie come già scriveva Peter Colosio ma a quei tempi che non era era polvere di stelle esatto o figli delle stelle non mi ricordo e mi sono chiesto proprio in questi momenti che stavi parlando tu ma come mai soprattutto in questi ultimi anni e soprattutto durante la pandemia hanno preso voce diciamo dei personaggi che sono da anni che comunque portano avanti il loro verbo e stanno prendendo sempre più piede a livello di informazione quindi sui canali youtube visualizzazioni interviste su canali anche ufficiali radio esatto vabbè adesso senza far nomi però allora io ho detto ma cavolo ma non è che veramente c'è una volontà di creare una nuova religione utilizzando perché no una possibile non dico invasione aliena ma una possibile discesa degli antichi dei evidenziati come alieni sulla terra utilizzando delle tecnologie avanzate come la tecnologia blue bin perché non si spiega come sia possibile che adesso veramente questi canali io non voglio fare nomi ma c'è anche uno famoso che stanno prendendo piede e fanno sempre molti abdepti perché poi io li chiamo così no cioè anche leggendo nei commenti di alcuni di questi personaggi stanno diventando proprio delle figure di riferimento cioè tutto quello che dicono è la verità io invito sempre a non dico a dubitare ma a rimanere un pochino diciamo critici quindi io invitare anche a leggere soprattutto i libri di Alessandro De Angelis ma non perché voglio fare pubblicità Alessandro poi a leggere anche libri di altri e poi ognuno di noi ci fa una valutazione certo che magari questa dynasty dell'Ital mi sembra un pochino lunga e cos'è che non vedo bene ecco puoi descrivere i dischi volanti i dischi volanti furono ideati nel 1942 in Italia e in Germania con Bellucci era anche un ingegnere italiano abbiamo portato nel libro sempre nel libro Lucifero tutti i documenti declassificati dalla CIA ma ragazzi ma i primi dischi volanti ma erano a forma di cupola quelli che compaiono adesso si sono evoluti nell'arco di poco decenni triangolari qui sulla terra no non solo anche a sfere sfere trasparenti di pochi centimetri e parte tutto da Tesla Stefano con l'antigravità con lì furono addirittura 40 bauli di progetti gli sono stati presi portati via e segretamente hanno sviluppato poi le scoperte di Tesla e quindi hanno iniziato a con a portare avanti tecnologia con l'antigravità ma ovviamente tutta questa tecnologia è stata tenuta segreta e presa in mano da chi è al vertice del potere altrimenti è interessante questa riflessione no ma interessante perché veramente mai come in questi ultimi quattro anni tre anni c'è questa proliferazione all'interno dei canali soprattutto youtube di persone che stanno proponendo una visione storica della Bibbia come se fosse un libro non sacro ma fosse un libro di storia ma di una storia ancestrale che non è altro che la venuta di esseri provenienti dallo spazio che hanno modificato geneticamente l'essere umano a propria immagine e somiglianza ecco questo è molto interessante quello invece che stiamo facendo adesso perché ci permette di creare un altro punto di vista e questa è la cosa importante secondo me indipendentemente insomma che le tue teorie che sicuramente sono suffragate abbiamo visto da fonti perché è importante fonti e documenti quindi quando si portano fonti e documenti non si parla più di teorie o ipotesi ma diventano prove ecco perché non vengono a confronto con il sottoscritto ma poi ma dove stanno i salieni l'hai mai visto uno tu che cosa mangiano non mi hanno mai lavorato nella mia crescita è allucinante come portano avanti allora siamo gli unici nell'universo come se poi arrivare da un da un sistema solare in alto da una galassia all'altra fosse qualcosa di di così semplice forse non lo so a livello di fisica queste persone non conoscono poco o niente perché per accorciare lo spazio un astronave davanti a sé allungarlo dietro io vedi fare una volta e mezzo la massa solare io vedi io non vorrei che queste teorie sulla discendenza aliena di una parte dell'umanità diventino poi la nuova religione del transumanese stanno facendo non vorrei Stefano no meno meno in generica ed anche il controllo sociale perché perché quando ci vengono a dire abbiamo i radar con cui vediamo dentro le piramidi camera qua camera là ci stanno abituando al controllo sociale come allora qui attraverso i radar sono in grado l'occhio di Orus che tutto vede di vedere dappertutto è quello che succede in Cina il controllo sociale che stanno portando avanti ti condizionano all'eugenetica al controllo sociale è un progetto del deep state e le persone gli vanno dietro non capendo che questi fanno finta che stanno attaccando il potere ci vengono a dire che gli alieni sono i nostri governanti ragazzi ma vi volete svegliare porca miseria fanno passare le persone da un inganno ad un altro con una facilità incredibile e tutti i mezzi di informazione genuflessi davanti a queste bufale Stefano qui allora visto che stanno perdendo potere d'acquisto anche tanti della massoneria io ho detto ragazzi la massoneria non si occupa di religione di potere qui è tutta storia di religione e di politica che si crei perché hanno creato una ragnatela gigantesca che adesso si sta spaltando che si crei allora un qualcosa un ritorno dei grandi costruttori perché noi siamo discendenti dei grandi costruttori che riprendano in mano la sovranità monetaria le industrie che ci sono state svendute al saldo dal caro Draghi da tutti i nostri politici e riprendiamoci l'Italia perché altrimenti così ragazzi i nostri figli io a te abbiamo una certa età dovranno versare il sangue per liberarsi da questa dittatura se mai ci riusciranno loro sono la fase finale del progetto e tutte le persone che vanno dietro a questa disinformazione stanno appoggiando il progetto del deep set facendo finta che attaccano il potere mentre in realtà lo stanno supportando ottima interessantissima riflessione volevo sapere se c'era qualcuno che voleva fare una domanda e siamo in chiusura mi è dato molto da riflettere con questa trasmissione di oggi abbiamo ancora qualcuno che vuole fare una domanda allora Alessandro io ringrazio te ringrazio i nostri ascoltatori i nostri web spettatori che hanno avuto la pazienza al giorno di festivo perché oggi l'abbè fan di essere qui con noi ad ascoltarci io ti ringrazio perché almeno mi hai aperto veramente una visione una parte di un qualcosa che avevo un pochino magari censurato io anche per mia così mancanza di abnegazione alla ricerca soprattutto in questo campo è una cosa che invece mi ha fatto molto piacere spero che faccia riflettere anche gli altri ecco infatti come voleva si dimostrare abbiamo aspetta un attimo scusa solo un secondo abbiamo un'altra persona che vuole intervenire che però non riesco a dargli la parola un attimo rimane ancora collegata allora proviamo Clogam a darti la parola perché Clogam mi senti adesso ci sono si ciao buongiorno da dove chiami ciao da Roma ciao buongiorno a tutti io volevo solo una cosa una curiosità mia volevo sapere quando anche per esempio Alessandro dice una data ben precisa questa della caduta della cometa il 29 giugno 3123 o 3124 come si contava il tempo perché noi siamo abituati a contarlo dall'anno zero ipotetico anno zero che sarebbe quello della nascita ipotetica di Gesù e cominciamo a contare gli anni ma andando indietro nei testi originali come come segnavano quel tempo non certo come meno no ecco tutto qua grazie inizialmente dalla nascita di Roma poi con fu adottata la nascita di Gesù all'anno zero ma tra l'altro parleremo nelle prossime puntate proprio del di Gesù nacque nel 5 avanti Cristo e le datazioni vengono fatte proprio attraverso gli eventi storici che sono accaduti le genealogie tante cose tra l'altro stiamo uscendo con una a febbraio il prossimo mese usciremo con un libro fortissimo con delle scoperte fortissime dove dimostreremo che Maria era la figlia della regina Cleopatra ecco perché poi tutta la simbologia egizia è stata presa dal Vaticano dall'inumazione dentro quattro sarcofagi dei papi dalla mitra del papa che portano il cappello che portano in testa che rappresenta lo silinco il pesce del Nilo che inghiottì il fallo di Osiride dal battesimo che venivano all'Egitto Gesù e Maria nacquero ad Alessandria d'Egitto stiamo cercando di contattare anche altri personaggi in Egitto perché la storia cambia il nostro caro Gesù era l'ultimo figlio del re Ero del Grande e di Maria figlia della regina Cleopatra d'Egitto e del sommo sacerdote di Cleopatra Simone Boeto quindi le prossime puntate usciremo con delle scoperte storiche fortissime che non lo so per loro sarà sempre più difficile continuare a fare questa congiura del silenzio nei nostri confronti perché riscrivere la storia sul personaggio più famoso che ci sia mai stato ovvero Gesù dicendo che era nipote della regina Cleopatra d'Egitto in questo libro spiegheremo anche come avvenivano questi famosi miracoli che era l'ultimo figlio del re Ero del Grande che Erode cercava Gesù perché voleva il suo figlio indietro e che morì oltretutto nel 68 dopo Cristo durante la prima guerra giudaica sopravvivendo quindi alla crocifissione sono scoperte storiche eclatanti che allacciano oltretutto Gesù alla generassia dei Giulio Claudi in quanto a questo punto Alessandro Elios e Cleopatra Selenne erano figli di Marco Antonio e di Cleopatra erano fratelli di Maria perdonami Alessandro però la mia domanda era proprio diversa cioè nei testi che hai studiato tu sono testi che sono dopo l'anno zero o prima dell'anno zero se sono prima dell'anno zero come erano datati come datavano cioè da quando hanno iniziato la caduta della cometa è stata è stata datata perché perché un astronomo Sun è stata trovata a Ninive raffigurò la caduta di questa cometa con tutte le costellazioni intorno in posizione perfetta e da da questo da questo reperto archeologico sono riusciti a datare quando cadde questa questa cometa scusa come l'hanno come l'hanno datata questa cioè perché il carbonio 14 no no per le costellazioni esistono anche dei programmi sul web un po' di anni fa li avevo trovati dove in base alla costellazione ti dava l'anno esatto in cui era stato rappresentato il cielo capisci però siamo sempre da capo in che anno stavano loro come lo definivano questo non lo so come lo definivano cioè perché se parliamo di libri storici prima dell'anno zero ci sarà scritto qualche cosa se no sono dopo l'anno zero e sono libri di storia raccontati da chi non c'era come al solito e da chi non ha assistito ai fatti e l'ha soltanto sentito raccontati quindi si fa con documenti con genealogie con personaggi noi abbiamo questi personaggi e tutta la genealogia che arriva fino al faraone Narmer cioè che vogliamo mettere in discussione tutto allora qui non parliamo più di niente buonanotte ma non è che dobbiamo mettere in discussione tutto qui la discussione è aperta sul fatto che Hitler scappò e la storia ci ha insegnato che l'uomo più cattivo del mondo è morto in un bunker e stiamo a 100 anni fa ma nemmeno quindi cioè la sicurezza di una data 29 giugno quando poi c'è stato un gap nel calendario gregoriano di 15 giorni che sono passati da una data a un'altra per un certo tempo mi sembra un po' esagerato cioè ci manca che diciamo anche l'orario e perde di credibilità con tutto quello che sono gli studi tuoi scusami non si può se no cioè non trovo un appiglio per dire che quella data era quella è stata fatta dagli astronomi eh cioè quello che dice Andrea magari era più cioè era più plausibile almeno l'anno però il giorno magari era un pochino è un po' troppo azzardato giusto Andrea no vabbè Andrea ci sei? no non ti sento più scusa che tra l'altro scusa non eri Andrea recoglam scusa mi ero confuso hologram sì 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 no per me è tutto qua rimango con le stesse età di prima è tutto un po' aleatorio come cioè ma non per la cattiva fede tra l'altro tra l'altro cambia qualcosa di qualche anno non ci cambiano gli eventi storici non cambiano allora ascolta abbiamo l'ultima ragazzi proprio l'ultima eh ragazzi mi alzate le mani adesso però allora Anna Anna buongiorno da dove chiami? allora Anna non ti vedo più allora allora do la parola a Pippo Pippo buongiorno da dove chiami? Pippo ti ho dato la parola devi premere sul pulsante blu siamo dalla Romagna ciao 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 domani devo chiedere sulle piramidi e come da chi furono costruite con quale tecnologia ragazzi ci sono tantissimi documenti eh su come sono state costruite le piramidi sono stati ritrovati i campi degli operai dei capimastri di come eh venivano costruite queste piramidi la prima piramide tra l'altro di cui abbiamo testimonianza è la piramide di di Sakkara duemina cinquecentottanta eh avanti Cristo eh ma ci vorrebbe un'intera puntata per eh chiarire come furono costruite queste queste piramidi e tra l'altro basta andare sui siti di egittologia e abbiamo attraverso le documentazioni che sono state trovate eh si è riuscita a capire come le costruivano innanzitutto gran parte del materiale delle piramidi veniva eh circa un 40% eh venivano costruite su delle colline preesistenti questo perché perché quando poi cadde questa cometa eh l'onda di tsunami passò attraverso il Tigri e le Eufrate spazzo via tutto distruggendo la civiltà di Sumer quindi eh avendo paura che si potesse eh ripetere questo fausto evento preferivano costruire su delle colline vicino al Nilo sono state fatte foto satellitari è stato visto come trasportavano dove venivano presi questi blocchi ci sono chiari segni eh di come venivano tagliati battuti trasportati venivano scostruiti i canali fino vicino alla eh piramide e il materiale di scarto in quelle cave non è stato trovato ed era circa il 70% il materiale di scarto perché veniva poi usato per riempire gli spazi vuoti di queste piramidi ovviamente lì quando poi butti grossi anche eh lastroni di marmo dentro queste di queste piramidi ci sta che qualcuno venga si metta in posizione orizzontale crei degli spazi vuoti all'interno della piramide eh in ogni caso questo riguarda più il campo dell'egittologia ma vi assicuro che è stato ritrovato tutto quanto non c'è niente di alieno in queste costruzioni delle piramidi anzi se basta andare alle cave e si vede come obelischi poi venivano rotti frattumati e lasciati lì eh non sempre si riusciva a trasportare ad avere successo nel taglio dei blocchi o degli obelischi in tutte queste queste cose qui non c'è assolutamente niente di alieno anzi ci sono tutte le documentazioni eh il cibo che prendevano gli operai i capimastri eh legavano i fori mh che venivano fatti dove venivano messe delle delle colonne in queste due colonne poi venivano messe delle corde che servivano eh da coraggio per trasportare su eh verso l'alto eh questi blocchi per la costruzione delle piramidi basta andare nei siti di agitologia potete informarvi di tutto certo che se vi affidate alla disinformazione di chi vi dice c'erano questi milioni di blocchi e qui e là e non era possibile sono stati alieni lasciamo perdere ma sai che cos'è poi concludiamo Alessandro perché molte volte noi io ho detto una cosa quando ci vengano a dire piramidi costruiti italiani ognuno ha il suo campo di competenza bene vadano davanti agli egittologi a portare avanti quelle allora io volevo dire un'altra cosa noi abbiamo la concezione eh che eh noi adesso nel 2022 siamo molto avanti tecnologicamente e magari duemila anni fa no non è vero perché io faccio io faccio due esempi la costruzione del ponte sul Reno fatta da Giulio Cesare durante una delle prime incursioni nei popoli germanici eh è stata costruita in sette giorni è stato costruito un ponte di legno sul Reno ora dei architetti ingegneri tedeschi hanno riprovato se non sbaglio nel 2009 il 2009 2010 ricostruire lo stesso ponte ci hanno impiegato dodici giorni quindi con usando gli stessi mezzi logicamente gli antichi romani altro esempio poi concludo gli acquedotti è una cosa che veramente lascia perplessi ma anche ad esempio l'assedio eh da parte di Giulio Cesare eh della della città di di Marsiglia in Francia eh ragazzi questi costruirono dei terrapieni eh che superavano di due metri le le cinta di di eh della città che erano già alte sui 15 metri ecco avevano a disposizione che cosa l'ingegno sicuramente delle conoscente delle conoscenze molto avanzate e soprattutto materiale umano quindi quello che noi non riusciamo a fare oggi con le macchine loro probabilmente sono riusciti a farlo solo col materiale umano però io non voglio chiudere con questa trasmissione con la scena con la scena con la trigonometria al pi greco ma già i sumeri sono stati ritrovati dei documenti antichi dove già avevano queste conoscenze adesso il problema qual è Stefano parliamoci chiaramente che loro devono far credere che l'uomo non abbia capacità evolutive e che tutto questo e che è stato frutto della nostra intelligenza e della nostra evoluzione ci sia stato dato dall'alto poi che sia un dio che siano alieni non ha importanza per farci credere che non siamo un cazzo quando non è così noi abbiamo delle potenzialità intellettive ed evolutive che sono andate avanti allora tutta la tecnologia che abbiamo adesso dagli smart da chi sono state ci sono state date anche queste dagli alieni e parlano di retroingegneria le peggio cavolate serve proprio a portare avanti fa parte del loro progetto quello di far credere che l'uomo non abbia nessuna capacità evolutiva intellettiva tutto ci viene dato dall'alto è a tutti gli effetti una nuova religione quella che stanno creando per cercare di continuare ad usarla come strumento per sottometterci va bene Alessandro veramente è stata una trasmissione molto molto interessante questa anche con domande logicamente quello che ha detto Alessandro è giusto non è ognuno le sue serie competenze lui non è un egittologo quindi la costruzione delle piramide non è certo lui che deve spiegarla Alessandro ti ringrazio veramente ti auguro buona buona fine festività e buon inizio del tuo lavoro noi ci sentiremo tra due settimane d'accordo? perfetto e te ne saremo a parlare di Gesù occhio perché starete davanti a una bomba che neanche vi immaginate ragazzi non immagino cosa verrà fuori perché logicamente ci sono molte persone che ultimamente si stanno anche giustamente attaccando alla fede cosa giusta però ricordatevi di non attaccarvi alla fede come se fosse un ancora di salvataggio ma deve essere una crescita personale e intima ciao Alessandro buona giornata ciao grazie a tutti allora signori chiudo questa trasmissione e vi ricordo domani mattina alle ore 9.30 il punto di vista mio di Stefano Becciolini buona giornata e buona festività a tutti ti serve un passaggio? vuoi viaggiare in compagnia? con che giro? ti sposti facilmente quando dove e con chi vuoi condividendo le spese dei tuoi viaggi in auto crea il tuo profilo e inizia subito a cercare nuovi amici nella tua zona pubblica il tuo annuncio sulla bacheta o cercane uno tra quelli già presenti monta in macchina e risparmia vienici a trovare su www.chegiro.com viaggia smart scegli che giro a cercare nuovi amici a cercare nuovi amici a cercare nuovi amici Grazie.